Buongiorno, mi chiamo Caffidario, sono un venditore Fiat Professional del gruppo Bossoni e siamo qua oggi per presentarvi il nuovo Fiat Ducato, in modo particolare per fare con voi il nostro test drive. Oggi siamo qui per presentare il nuovo Fiat Ducato. Nella fattispecie sono alla guida di un Fiat Ducato 2000 Multijet da 115 cavalli, da considerare però che esiste in varie versioni, adatto un po' a tutte le esigenze. Nuovo design sicuramente a livello esterno e soprattutto interno, più ricco di contenuti per quanto riguarda sistemi tecnologici e all'avanguardia per quanto riguarda discorsi di servizi di sicurezza. Da notare sin da subito la nuova Autoradio Touchscreen da 5 pollici con sistema di Bluetooth integrato, dove all'interno del pacchetto SX possiamo trovare addirittura il sistema di telecamera posteriore che vi dà la visibilità in tempo reale di ogni manovra. Per quanto riguarda la strumentazione di bordo, abbiamo un Cruise Control, che è un regolatore di velocità adatto per tratti lunghi e più riposanti. Inoltre nel nostro sistema di sicurezza abbiamo l'assistenza in frenata per una migliore e minore usura dell'impianto frenante. Le volumetrie di nuovo Ducato variano in base alle esigenze dagli 8 metri cubi fino ai 17 metri cubi, mentre la sua portata varia da 10 quintali fino ai 17 quintali, accessibile sia con patente B ma addirittura presente nella versione 40 quintali pieno carico dove necessita di patente C. Buongiorno, sono Caffidario, venditore Fiat Professional Gruppo Bossoni e abbiamo provato oggi il nuovo Fiat Ducato. Vi invito nelle nostre concessionarie del Gruppo Bossoni per il vostro test drive.